Amici di Italian Fishing TV, per questo inverno Sportit torna con una grande offerta, questa volta dedicata a una tecnica 100% italiana, la trota laghetto. Con soli 69,90 euro riceverete comodamente a casa vostra un combo canna più mulinello del valore commerciale di oltre 100 euro, composto da una canna Reventon XT Lake Trout e un mulinello Dynamic XTC 3000. La Reventon XT Lake Trout è disponibile in due modelli, la 39LL lunga 3,9 metri con potenza di lancio 3,8 grammi e la 42MH lunga 4,2 metri con potenza di lancio 10,20. Il Blank è sottile ma ultraconico, realizzato in SHR Carbon. L'azione è progressiva e presenta sul calcio e nella zona della placca a porta mulinello un grip che migliora la sensibilità e il tocco anche nelle giornate più fredde. Consigliamo la 39LL per chi desidera utilizzare questa canna per impieghi light, ovvero saltarello, vetrino, piccole bombarde, mentre la 42MH è una canna decisamente più potente, adatta per l'impiego con bombarde per lanci molto lunghi. Il mulinello Trabucco Dynamic XTC FD è un mulinello con corpo in grafite, presenta una bobina in alluminio molto solida, 3 cuscinette a sfere e un rapporto di recupero 5,2 a 1. La bobina è maggiorata per favorire i lanci lunghi ed è presente in dotazione una bobina di scorta. Ricapitoliamo quindi la nostra offerta Combo Trotta Laghetto, una canna disponibile in due versioni e un mulinello del valore complessivo di oltre 100 euro a soli 69,90 euro comodamente a casa vostra. Venite a scoprire la nostra grande offerta dedicata alla Trotta Laghetto nella sezione pesca di www.sportit.com e affrettatevi perché il momento è quello giusto e ricordatevi da noi le spese di spedizione sono gratuite.